Dove stiamo andando? A Londra! Ciao Aria! E dove stiamo andando per arrivare a Londra? In stazione a prendere il treno? Oh, guarda, forse prendiamo più treni qua in Inghilterra che a Novara, eh? In Italia. Sei contenta di prendere il treno? Sì. Venestina dov'è? Con lo zio Dion, nell'altra macchina. Esatto. Cosa fa Aria? Un disegnino. Aria disegna sempre, eh? Che bravissima! Siamo arrivati al parcheggio della stazione, adesso andiamo a cercare Manessina che è già arrivata prima di noi. Ma dove sono loro? Eh, sono penso su in stazione. Ah, ma io pensavo che erano qua. Eh, lo zio è già arrivato e ha già parcheggiato. Adesso cerchiamo... Dove? Eh, non lo so, in questo parcheggio grandissimo ci sono un sacco di macchine, non so dove. Bene arrivate! Ciao! Avete freddo? Vanessa, hai freddo? Aria! E' il nasino rosso. Sei contenta di prendere il treno? Sì? Vabbè, dai. Hai preso una volta solo il treno in vita tua, siamo venuti qua in Inghilterra e prendiamo il treno. Sei contenta? Sì, tranquilla. Eh, che ci siamo, guardate il trenino, troppo costruiamo. Sei contenta? Quascio! Ma voi due? Scusate, sorry. Are you twins? No. Are you twins? No? Siete gemelle. Siete gemelle? No? Ah, scusate allora, sbagliato persona. Abbiamo trovato i posti per voi bimbi? No, amore, non ti preoccupare, dopo mi siedo, ok? L'importante è che siete sedute voi. Stai meglio? Passate un po' il freddo. Tanto adesso camminiamo, il freddo ti passa, ok? Tito! Oh, che famona! Bene tu? Buono! Ti piace quel pollo che hai preso? Sono contenta, dai. Hai ancora freddo il bisogno della cucae? La stessa mi ha detto il freddo. Sanno di? Profumo. Quelli? Hanno un gusto un po' forte, profumato. Eh, vabbè, vabbè, mangia l'amore ormai. Lea, cos'è che c'è? Le rane stanno sulle foglie. Hai ragione, amore, ma ci sono le ranette? Io non le vedo. Tu le hai viste? Magari non si vogliono fare vedere. Eh, hanno paura? Siamo sulla metropolitana? Stiamo andando in centro a Londra, eh? Eh? Stiamo andando in centro a Londra. Dobbiamo andare in questo posto grandissimo dove vendono le caramelle americane e tutti gli M&M's di questo mondo che a me piacciono tantissimo. E poi andiamo sul Tamigi, eh, a vedere il Tamigi, vediamo cosa riusciamo a vedere poi oggi, ok? Ok. La immobile è più lunga del mondo e c'è un signore che ci so... Ciao signore che ci supera! Vai papà! Che amico! Qualcuno stava carino? Allora, ciao! Dani, Aluncino, Adela, Stasio, ciao amore! Ciao! Quanto è lunga questa scala mobile? Tantissimo! E voilà, e voilà! Abbiamo trovato un mega negozio di M&M's bellissimo ma c'è una cosa bestiale per poter entrare E quindi non andiamo, peccato, io li volevo, che buoni! Guarda Vane, come siamo? Andiamo! Mamma, siamo arrivati nel tuo negozio, nel negozio di caramelle! Il tuo negozio preferito, come sei? Bello! Che buono! Wow! Vanessa, Anastasia, vieni! Mamma, ho il mio best! Cosa sono questi? Tu vuoi mangiarti tutto, mamma mia? Mangia tutto! Queste mi ispirano, cioccolato bianco? Mmm! Io voglio quelli con le noccioline! Allora, caramello, il pretzel, il peanut butter... Buoni! Peanut butter, sì! Peanut butter con le noccioline! Crunchy cookie biscotto! A me piacciono le originali! Questi qua sono crispy! Sì! Stasia, siamo rientrati a casa! Adesso, tra poco, ci sarà una sorpresa per Vanessa! Toooo! Per il compleanno di Vanessa! Non dobbiamo dire niente a Vanessa, ok? No, torta! Perché ci sarà una sua super sorpresa! Ok, amore? Sì! Adesso vuoi fare uno snack? Yes! Cucciolini, guardate come beve la gatta di Isabella e Aria! Che bellina! È tantasette la Betty! Allora, Vanell, siamo tornati, vi siete cambiate dopo il giro a Londra! Ok, c'è una sorpresa! Esatto! Ci sarà una sorpresa per Vanessa per il suo compleanno! Aspetta qua! Tu aspetta qui, eh! Ok! Qua c'è un torta! Aspetta! Wow! Qua c'è un torta! Sì! Cioccolato! Buona! Ok, la facciamo dopo, magari! Wow! Ti dice buon compleanno! Sì! Perfetto! Anche! Va bene! Va bene! Tanto non la tocca nessuno! E qua? Cosa c'è? Biscotti! Ci sono i biscotti! Mettere! Da mettere sulla torta! Sì! E poi dobbiamo mettere sopra il cioccolato! Sì! Ma perché dobbiamo mettere? Ah! Sotto! Sotto! Metti questo! Sulla torta! Questo è Gasper! Gasper! Secondo me! Gasper ce l'ha! Gasper ce l'ha! Che azzurro! Azzurro! Fa niente! Fa niente! Facciamo finta che è buio e non c'è nessuno! Ok! Pensi che a Vanessa piacerà? Sì! Tanto, vero? Va bene! Allora dopo decoriamo la torta! Ok? Isabella sta decorando la torta! Vediamo un po'! Gatto? Sì! Ok! All the way down! All the way down! You have to put it all the way, ma! It won't stand! You have to put it all the way! Gatto! Decoriamo Gasper! No! 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 Gatto è pronto! Metto Vanessa qui! Il gatto lì è il 10! Qui? Sì! Sì! Vane! Vieni! Vieni! Arrivo! Sì? Vieni! Vieni con me! Passa di qua, però! Passa di qua Passa, passa Metti di qua Metti di qua Ok, tra un po' Arriva la tua sorpresa Ok? Sei curiosa? Ok, vieni Sissi Vieni Arriva la sorpresa per fare Sì Ok Sei pronta? Che arriva la tua sorpresa? Tanti auguri a te Tanti auguri a te Tanti auguri a Vanessa Tanti auguri a te Tanti auguri a te Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to Vanessa Happy birthday to you Accendiamo i biscotti per bianfini, Vanessa tu quale vuoi? Isabella il 10, tu quale scegli? Gasper? Ok, prendi Gasper, Anastasia, la scarpa, la Nike, ok, e il biscotto? Cos'è che vuoi? E Vanessa proprio William, ultimo oggi Vanessa, com'è Gasperino? Ciao Gasper, hai assaggiato? No, ma il mio piatto? Dove vuoi sederti adesso? Io ho capo cagolo, prendilo, tieni, tieni, ok, ti piace la porta? Allora amore, festa finita, sembri biancaneve, ma quanto sei bella, ascolta, adesso è l'ultima sera in cui siamo qua dalla zia, adesso voi cenate, mangiate un toast, poi andate a dormire perché loro domani vanno a scuola, domani e lunedì vanno a scuola, e noi ci vediamo poi domani mattina, va bene? Ok. Concludiamo qua il video della festa del tuo compleanno sorpresa e ci vediamo nel prossimo video, a casa purtroppo, ok? Salutiamo, ciao Isabella, ciao, Aria, ciao, 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 ciao. Ciao, 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 ciao.